E per questa campagna della nostra testata noi torniamo con Rossana L'Olsi all'auditorium del via Pineta Sacchetti mai aperto e un anno fa è stato devastato dalle fiamme dopo anni di attesa per la sua ultimazione. Ma vediamo. Le fiamme lo hanno vitorato per 36 ore consecutive un anno fa. L'auditorium Pineta Sacchetti è un'incompiuta permanente, 13 anni per realizzarla, un cantiere eterno che ha inviottito 5 milioni di euro di pubbliche risorse, l'Europa per imperizia, proprio alla vigilia dell'iniziatività. Per i volontari del decolo XIII, il città poteva e doveva diventare uno spazio di aggregazione culturale, artistico, musicale, destinato ai giovani in un pezzo di città che ne è privo e fare sistema con il parco del Pineto. Ad un anno da ricendio che ha decorato la volta, i resti giacciano sparsi ovunque. Noi avevamo, diciamo, fra virgolette, adottato le aree, come vede, queste aree esterne, insomma, a verde. L'avevamo ripulito, l'avevamo fatto delle piantumazioni e ovviamente adesso, essendoci il divieto di accesso, non possiamo più entrare e prenderci cura di queste piante. Il giardino ha smesso di essere tale. Erbacce e rifiuti avanzano tra i croni della struttura incendiata, sporcizio ovunque. Le piante lambono. I tossico di preventi di zona hanno ricavato anche l'angolo del buco. Un anno fa l'incendio e l'anno è trascorso in vano. Adesso è confronto tra periti per i danni. Le carte, soprattutto il destino della Vitori in Pineta Sacchetti, sono in mano alle assicurazioni. Nessun calendario ottenibile sulla cartonizzazione del recupero dell'opera. In questo senso non abbiamo notizie certe. E incerte? Incerte neanche perché ancora credo si dibatta su quello che si dovrà fare di questi resti. Se ricostruire, chi dice invece no, evitiamo altri sprechi di milioni di euro, abbattiamolo, c'è chi propone, facciamo una vista ai pattinaggi. E mentre ci si laccia la sua delizia e il cambio di rischio di occupazione per la debolezza della rete di protezione facilmente superabile, le condizioni dell'albitorio non sono strettamente legate al recupero e al restauro del parco dominato dai primi secolari che smettono ridotti a Moncherini, in un angolo di mini parco giochi. Fino a quest'estate se ne prendeva cura una coppia di anziani su base volontaria, chiudevano ed aprivano il calcello e vivano. Poi il municipio ha deciso di ricorrere al bando per affidare le chiavi. Le clausole di questo bando erano così, insomma, vessatorie, diciamo, insomma. Si parlava addirittura di responsabilità in caso di incidenti ai bambini durante l'apertura. Per cui è andato deserto, adesso il parchetto senza più custodi è aperto giorno e notte vive la preda di vangali, di ogni sorta.